Una casa interamente arredata attraverso le grandi lastre Magnum Oversize, è l'idea di Florim per questo Salone del Mobile 2016, una casa di 200 metri quadrati che ora scopriremo insieme. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Udentile veste la camera made in Florim, pavimento ed anche l'armadio e Neutra 6.0 è stata utilizzata per realizzare la testata del letto. Inoltre, Materia Project in spessore 6 mm riveste pareti e soffitto. La reinterpretazione dei materiali naturali è il focus del bagno dove vediamo un corto circuito tra marmo e legno. Inoltre, Grazie a tutti. Grazie a tutti.